Amici di milan.soccer, buongiorno e che buongiorno! Come sempre, quando scendono i ragazzi in campo, per me la giornata inizia con un sapore speciale, ma deve finire anche con un sapore speciale, mi raccomando. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, ormai siamo praticamente a 10.000, sarà lanciata quindi o domanica e domenica o lunedì, lunedì pomeriggio, la nostra nuova iniziativa, quindi seguiteci, 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 mettete mi piace a questo video, iscrivetevi per chi ancora non l'ha fatto, è gratuito, è sotto, più in basso, attenzione, link in descrizione, Romanzo Milan, il romanzo per veri milanisti, potete acquistarlo, Amazon me lo porta a casa e dopo che lo avete acquistato, noi vi spediamo l'attestato di vero cuore rosso nero. Oggi sono particolarmente carico, voglia di vedere il Milan in campo, ma prima di iniziare questa disamina e dirvi come sempre qual è il contenuto della copertina, l'avete vista la copertina? Decisioni che io faccio difficoltà a comprendere per questo che mi fa piacere avere una community con cui dialogare, perché voglio capire cosa sta succedendo, ogni giorno ce n'è una nuova, ma prima vi voglio leggere una formazione, ascoltatela bene, vediamo chi indovina, è un 4-3-1-2, qualche tempo fa, Abbiati, Abate, Nesta, Iepes, Antonini, Ambrosini, dal primo del secondo tempo, Aquilani, Van Bommel, Nocerino, Robigno, dal primo del secondo tempo, Boateng, Ibraimovic, Cassano, sostituito al 44esimo del secondo tempo da El Sharawi, allenatore? Chi era l'allenatore? Beh, avete indovinato, eh sì, era proprio lui, scrivetelo qua sotto nei commenti. La partita? Lecce-Milan, chi è che se la ricorda? Quarto del primo tempo, Giacomazzi, 1-0 per il Lecce, trentesimo del primo tempo, Oddo, 2-0 per il Lecce, trentasettesimo del primo tempo, Grossmuller, Lecce, 3-0, 3-0, quarto, decimo, diciottesimo del secondo tempo, pum, 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 tre pari, Boateng, tripletta di Boateng, e al trentottesimo del secondo tempo, il sorpasso per 4-3 di Iepes, eh beh, me la ricordo bene quella partita, se me la ricordo, mi dovete dire all'allenatore è l'anno, bravi, 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 piccolo gioco con voi, adesso arriviamo a quello che sì, che è accaduto, vedete, si liquida tutto in maniera troppo semplice, poi si dice che ci sono quelli che fanno dell'allarmismo, nessun allarmismo, è una community, siete soggetti più intelligenti del sottoscritto e quindi il sottoscritto spesso vi chiede di commentare, di capire, e io a volte posso far capire a voi, beh, è successo che tutti aspettavano la conferenza stampa di Pioli, come dopo, prima di una partita, ma non c'è stata nessuna conferenza stampa, Pioli ha deciso che la conferenza stampa non ci sarebbe stata, io vi dico quello che so, perché anche se da qualche ora che sono usciti queste informazioni, ma sono passate in maniera troppo semplice, no, è una semplice formalità, sono troppi gli spostamenti, non c'è tempo, non è così che funziona, soprattutto nell'epoca della comunicazione, abbiamo bisogno noi tifosi di sapere, di conoscere, di informarci, avete l'obbligo di dare informazioni, notizie, argomentazioni per cercare di capire, ma innanzitutto semplicemente perché siamo in innamorati e vogliamo sapere il nostro grande amore dove è, che cosa fa, dove si sta mangiando, noi abbiamo bisogno del Milan, non è una formalità, parlare troppo, nel mezzo della comunicazione, guardate, un semplice cellulare ci porta da Johannesburg fino all'Indonesia per passare a Kazakistan e all'Amici di Giulianova piuttosto che quelli di Rimini, Milano eccetera, no, noi abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di meno formalismo, basterebbe una cosa più semplice, però bisogna capire, eppure Pioli ha annullato questa conferenza stampa, una conferenza stampa che avrebbe chiarito anche un po' gli esiti della formazione, c'è qualcosa che comunque a me personalmente non riporta. È stato intercettato di ritorno da una vacanza anche l'amministratore delegato Furlani, il quale si è detto evidentemente non avrebbe avuto senso dire il contrario, visto che qui le decisioni le prende solo il nostro Gerry Cardinale. A proposito delle decisioni che prende Gerry Cardinale, beh, c'è una piccola polemica interna da parte dell'APA, l'APA è un'associazione dei piccoli azionisti del Milan, vedete, Gerry Cardinale detiene il 99,7%, il restante lo detengono piccoli azionisti. È chiaro che non ha alcun valore decisionale ciò che è uno che detiene lo 0,03% rispetto ad una decisione, però è proprio l'atteggiamento di considerare soci di totale minoranza come dei semplici tifosi, come ha detto Scaroni. Vedete, non vi potete chiudere nel vostro castello, non è una cosa che riguarda solo voi, riguarda tutti noi. Se non avete visto il video di ieri, lo metto alla fine di questo, andrete a comprendere come la monetizzazione da parte di un club passa attraverso l'amore dei tifosi. Più ne sono e più le televisioni sono interessate ad intercettare noi e dunque voi dare dei soldi per crescere. E allora dovete creare delle situazioni che ci rendano comunque protagonisti. Basta con questa divisione, basta vedere questi giovani pieni di ori, di gloria, di denari, chiusi all'interno di situazioni che sono per noi irraggiungibili. Noi siamo sempre più vicino a voi e per dirlo vi voglio fare anche un altro esempio. Il calcio in tv entra nel futuro. Che cosa è successo? Succede che tra Wolverhampton e Tottenham accadrà per la prima volta quello che ci aspetterà per il futuro. Che piccino piccino, magari i giovanissimi che ci guardano, no? Come Daniele, ciao Daniele, Daniele Palermo. Io lo vedo già sulla fascia sinistra, Daniele. Beh, per esempio il calcio che vedranno loro non sarà quello di novantesimo minuto di Paolo Valenti, ma sarà quello che sto per dirvi, ovvero la telecamera nelle maglie, la bodycam durante il riscaldamento. Questa sarà una prova del pre-gara ed è una possibile svolta per il futuro. E allora quando ho messo questo, diciamo così, questa, quando ho pensato alla copertina di un Pioli che oggettivamente non comunica in questo momento con noi, è una coincidenza, ma è una coincidenza simbolica. Va bene, arriviamo alla questione relativa alla partita. Noi siamo carichi, noi ci siamo. Adesso abbiamo bisogno assolutamente di chiudere prima di questa pausa, tra l'altro, la pausa. Quanto è triste la pausa. Non vedo l'ora che termini queste partite della nazionale. Io personalmente non lo supporto. E poi arriverà una piccola, diciamo così, rivoluzione, perché si aspetta Ibrahimovic, si aspetta il calciomercato di gennaio e dunque staremo a vedere quello che ci porterà, ci porterà Babbo Natale, Gerry Cardinale. Il Milan che dunque scenderà in campo è quello che abbiamo già detto ieri. Vedrà di nuovo un Milan molto vicino alla formazione definitiva, titolare, con chiaramente il rientro che ci dovrebbe essere in campo di Krunic e con l'impiego, ancora una volta, non se ne può fare a meno, di Giroud, alleao sulla sinistra e Ciocuese, è la sua volta, è la sua volta, lo diceva un gruppo comico torinese, è la sua volta, per Ciocuese. D'accordo, staremo a vedere, ci sentiamo più tardi, alle 15 c'è la partita, tutti sintonizzati e poi faremo una sorta di reaction o commenti del post partita. Ci accompagniamo un po' per tutta la giornata. Baci, ciao ciao!